Sì, insomma, devi guardare l'orario, perché a 14 ore sono troppo. Eh, caro te, le disgrazie sono disgrazie. Amici, facciamo lo sciopero! È bastardo chi si tira indietro! Pintanto che i vostri padroni si renderanno conto di avere a che fare con degli uomini! Adesso! Scusi, professore, mi sono dimenticato! È senza colpa, mi creda. Stiamo sulle scatole, scusi l'espressione. E allora ci perseguita. Ascolti qui! Pezzi di vagabombi, pannulloni! Purtroppo per voi altri, i padroni possono andare avanti ancora per degli anni, sai? A ciascuno i suoi affari! Per buona educazione! Per buona educazione la donna passa per prima! Calma, calma, amici, senza fretta! Fateli pure aspettare, i signori padroni! Sì, la tua sigla, manchiamo fare il verso! Sì, la tua sigla, arriveremo al centro! Chi vola? Chi vola? Chi vola? Chi vola, c'ha visto! Chi vola, c'ha visto!